Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Gansino Pisa, 20 novembre ore 19.30, multisala Odeon, dove i film sono proiettati senza interruzione Titolo del film The Christmas Show Un reality Christmas movie tutto italiano Il film è di genere commedia sentimentale Dura 1 ore e 45 minuti ed è in visione widescreen La famiglia Rovati da anni non festeggia il Natale per un grave evento luttuoso Composta da personaggi un po' strani La famiglia si ritroverà ad essere protagonista di un reality show natalizio Pregi del film Una specie di grande fratello tutto natalizio con protagonista questa famiglia E che si rivolge a tutto il grande pubblico senza eccezioni o limiti di età Pur ispirandosi a classici hollywoodiani e ad altri film trasmessi dalle tv commerciali Questo ha tutta una sua identità che bensì vince già dall'inizio Ed è stato ben organizzato dal regista Alberto Ferrari E da cui sembra quasi assistere ad un reality show diverso da quelli televisivi E sicuramente molto migliore Le battute e le vicende sono ottime ed il cast di attori ben conosciuti dagli spettatori Da un grande Raul Bova a Francesco Pannofino Alla simpatia di Tullio Solenghi A quella di Daniele Foresi E per finire ad un'eccellente Serena Autieri E ad una brava Ornella Muti Si comportano tutti al top Potrebbe essere un nuovo modo di fare cinepanettoni Anche per via di tanto sentimento ed emozioni fiabesche presenti nel film Per il resto nessun difetto Giudizio finale il film è eccellente E con tanta allegria Di cui oggi c'è tanto bisogno Quindi non indugiate ed andate a vederlo Anche questo è cinema Il cinema è contro la guerra Viva il cinema Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Gansino